Si tratta di un importante evento di sport, uno dei più importanti del Valdarno e userei dire della Toscana. Il fatto che il Consiglio regionale abbia contribuito all'organizzazione di questo evento è un ulteriore elemento che ne rimarca l'importanza. Io ringrazio il GS Novo Operale Fidinese per la grande organizzazione che porta a questo evento e d'altra parte il Valdarno è terra di ciclismo, il Valdarno è una terra che ha sempre promosso questo sport e il ciclismo non ci dimentichiamo è uno sport popolare che coinvolge tante persone lungo il percorso e che fa affacciare lungo le strade tante persone che amano questo sport. Quindi è davvero importante la nostra partecipazione in questo evento.